A zero la Giunta per ottenere chiarezza politica e dare un ulteriore slancio all'azione amministrativa. Nessuna zona grigia è consentita per rispetto di chi ci ha dato fiducia. Vado avanti solo con chi ci sta e vuole tenere fede all'impegno assunto con gli elettori nel 2015. Con queste poche e incisive parole, il sindaco di Ispica, Pierenzo Muragli, ha annunciato questa mattina l'azzeramento di tutta la sua squadra assessoriale. Nessun giudizio negativo sull'operato della Giunta fino ad oggi, ma la voglia di rimescolare un po' le carte per dare nuovo vigore in vista degli ultimi due anni di governo. La città ha bisogno della responsabilità di tutti, ha proseguito e ora saranno subito convocate le forze di coalizione per ricomporre la squadra di governo con alcune novità. Un atto doveroso che è stato determinato da una serie di posizioni politiche assunte da una parte di una forza che compone la nostra coalizione di governo. Naturalmente parliamo di posizioni politiche in opposizione a quella che era la linea determinata dalla maggioranza. Come si va avanti adesso? Convocando immediatamente le forze della coalizione e ricomponendo la squadra di governo, scegliendo il meglio per servire la città. Come si va avanti adesso?